Beers and Video, Beers and Video Dai Circo, è tardi Sì, arrivo un attimo E quindi è finita? Eh già Però pensavo Che magari potremmo Rivederci a settembre Sì, dai, perché no, è una buona idea Grande Ah, prima che tu vada via Vorrei che prendessi questa La pietra a forma di cuore che abbiamo trovato a Falò Sì La fidanzata dell'estate Ci conoscemmo a Ferragosto Una così, generalmente Non la guarderei neanche Ma dopo cinque Long Island Why you Col cazzo all'acqua pazza che mi faccia problemi Sei giorni dopo mi chiese di raggiungerla a Belluno Belluno Ma dov'è Belluno? Lombardia Lazio Mario Gianni No, Federico Ma come si chiama questo? Beh Io sul telefono ce l'ho segnato come alcohol gratis Ma poi In fondo Magamana Fu Val d'Aosta No, Trentino, Alto Adi Aspè O metto il navigatore Culo Dieci ore Col cazzo all'insalata che vado a Belluno Lombardia Lombardia E Lombardia 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 Grazie a tutti.